Riccardo Bocchicchio è morto lo scorso agosto all'età di 46 anni, apparentemente suicida. La versione dei fatti non ha mai però convinto la madre, Dinara Micone Angelone, che si è rivolta a diverse trasmissioni perché il caso venisse riaperto. Chi l'ha visto ha analizzato il referto stilato sul corpo di Riccardo, morto cadendo dalla finestra di casa sua nel quartiere napoletano di Chiaia, ed ha evidenziato due errori grossolani. Si parla di un uomo di 33 anni e si sbaglia anche la data sul timbro apposto in calce. Non sono queste le uniche stranezze sul caso di Riccardo Bocchicchio, sono infatti diversi gli elementi che fanno dubitare la famiglia della tesi del suicidio. La madre di Dinara afferma che Riccardo era un uomo soddisfatto e sereno, che non avrebbe avuto motivo di suicidarsi. C'è poi la telefonata fatta ad un'amica solo 10 minuti prima della caduta dalla finestra. Intervistata da chi l'ha visto, la donna ha affermato che si era dato appuntamento di lì a poco con Riccardo, che aveva sentito tranquillo e normale al telefono. Inoltre il corpo di Riccardo presenta alcuni strani lividi sulla parte opposta rispetto a quella che ha impattato con il manto stradale durante la caduta e su quel corpo non è stata neanche effettuata l'autopsia. La madre Dinara ha anche affermato che a condizionare moltissimo la decisione degli inquirenti sulla morte di Riccardo è stato il disturbo bipolare di cui l'uomo ha sofferto quando aveva 20 anni. Secondo lei, un disturbo mentale che ha subito convinto chi si occupava del caso che si trattasse di suicidio. Il caso presenta effettivamente elementi oscuri e chi l'ha visto insieme alla famiglia Bocchicchio ha lanciato un appello a chiunque possa aver visto qualcosa la sera in cui Riccardo è morto il 4 agosto del 2017.